Forza! Tutti! Così? Sì! Cecele cece! Cecele cece! Cecele cece! Sì! Bravi! Cecele cece! Ma cazzo sono sincronizzate questi due, sembra che hanno trovato la passione all'altea. E non cazzo sono sincronizzate questi due, sembra che hanno trovato la passione all'altea. E sempre ringraziamo Copa Natale che fra poco vi saluta perché sono le rete che hanno finito al bar e stanno partendo. Un attimo, buon Natale che poi veniamo a prenderti. Gustavo Niva e você! Gustavo Niva e você!